Gian Piero Gasperini, peccato, questa Atalanta ha tenuto testa alla Juventus poi? Ma sì, abbiamo fatto anche oggi una buona gara, ogni volta giochiamo contro di loro, c'è sempre qualche cosa che non riesce a girare al meglio, però la partita è stata buona da parte di tutti i ragazzi, forse più ancora di altre volte abbiamo giocato, oserei dire, alla pari con loro. C'è stato un Mancini titolare, prima da titolare anche per As? Oh bene, hanno fatto bene tutti e due, sia As che Mancini, Mancini in alcuni momenti è stato bravissimo anche, ma direi tutta la squadra, loro due e tutti gli altri hanno fatto una partita di livello e questo ci deve dare fiducia per il proseguire del campionato, che è un campionato difficile che ci vede un po' attardati ma adesso entriamo in una fase molto molto importante e se riusciamo ad agganciarci nelle prossime settimane poi allora possiamo veramente contare di ripetere insomma la posizione che ci porta in Europa. Tanto non avete tempo di riposare perché domenica è già campionato e il Verona è un'altra partita delicata perché ovviamente il Verona ha altri obiettivi. Però queste squadre, il Verona, il Crotone, la Spal, ultimamente hanno fatto dei risultati importanti che hanno rilanciato la lotta per la salvezza, quindi hanno vinto il derby, hanno molto morale e come tutte le partite del campionato sono veramente difficili, equilibrate però è chiaro che noi anche la partita di questa sera dimostra che siamo in un ottimo momento, che stiamo bene tutti quanti, ci sono state prestazioni da parte di tutti, il Papu, Ilicic, il centrocampo, avevamo anche qualche giocatore Spinazzola, Froile, Armagiello, Caldara, insomma, Pettagno poi è entrato. Io vedo la squadra che sta bene, poi è chiaro che bisogna vincere le partite anche a Bologna. Abbiamo rischiato di non vincere, è una partita che a un certo punto stradominavamo, bisogna sempre stare attenti, però abbiamo fiducia.